Le notizie di oggi La musica di sempre GRP Giornale Radio Piemonte E' tempo di Natale e io non vedo l'ora di parlarne tra l'altro siamo media partner anche quest'anno del Magico Paese di Natale Govone, Asti insomma Prato Nevoso e tutto di più ma andiamo per ordine. Valentina benvenuta, ciao! Ciao Francesca, voi avete già iniziato con Mariah Carey? Abbiamo già in... no, non ancora però in occasione del Magico Paese di Natale come dire, ho messo gli web li senti? Che ci stanno o quello Mariah Carey non abbiamo altre alternative anche se devo dire la canzone di Natale di GRP è tanto bellina è tanto bellina magari ve la passiamo così anche a Govone potete farla ascoltare la mettiamo in sottofondo insieme a tutte le altre musica a proposito di Govone perché l'altra settimana ha aperto Asti con i mercatini di Natale ci è stata già l'immersione insomma di questo della gente nello spirito natalizio ecco ma adesso si entra nel vivo ecco sì esatto sì 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 domani ci aspetta una bellissima giornata siamo tutti in fermento tutti emozionati perché domani inauguriamo il cuore storico del Magico Paese di Natale ovvero Govone che è questo paese meraviglioso un po' un po' arroccato ecco che ha questo castello fantastico e poi la casa di Babbo Natale signori la casa di Babbo Natale che è proprio nel castello reale che è patrimonio unesco in cima a questa collina faremo domani alle 17 per tutti coloro che vogliono partecipare è assolutamente libero faremo uno spettacolo di inaugurazione con un coro gospel davanti alla casa di Babbo Natale accenderemo tutte le luminari che quest'anno sono stupende abbiamo una gigantesca stella cometa davanti al castello che si accenderà domani alle 17 e tra l'altro hai visto in anteprima lo spettacolo ho visto in anteprima lo spettacolo ho pianto ovviamente ma io sono una frignona però è veramente emozionante è bellissimo no ma io non vedo l'ora di venire a vederlo tra l'altro molti dei nostri ascoltatori ci saranno perché abbiamo già cominciato a regalare gli inviti per assistere proprio allo spettacolo per visitare il magico paese di Natale per entrare nella casa di Babbo Natale proprio grazie a questa partnership a questa collaborazione che si rinnova anche quest'anno e che vi porta proprio nel cuore del Natale e noi siamo molto felici vi aspettiamo per fargli vivere la magia del Natale e quindi accendiamo anche Govone così Asti e Govone sono pronti e poi insomma ci sentiamo venerdì prossimo per le altre novità avremo ancora tante novità Francesca andiamo avanti fino al 18 dicembre avremo novità tutte le settimane per voi ci sentiamo venerdì prossimo buon Natale buon Natale ciao ciao le notizie di oggi la musica di sempre GRP giornale Radio Piemonte